Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, un chilometro di coda per un incidente tra BV1 Variante e Badia in direzione di Firenze. Troviamo inoltre coda in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Ci spostiamo sulla Firenze Mare, rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e BV111 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In Fipilico di attratti per traffico tra Ginestra e Firenze Scandici in direzione ingresso città e code in uscita a Firenze Scandici in carreggiata opposta. E arriviamo al traffico urbano di Firenze per cantieri tramvia, segnaliamo senso unico di marcia in piazza del Crocifisso con deviazioni in loco. Muoversi in Toscana Info è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!